Ragazzi basta sfide con queste alzate laterali Comunque 100 rep con 2 kg Questi sono 2 kg Questa è veramente difficile, vediamo Che po' se volano 10 Siamo a 20 e inizia un po' a sentirsi, ma poco poco 30 40, sento un po' i trapezzi 50 60, mi fermo un attimo 10 20, d'altro 20 Ci mancano 10 6, 7, 8, 9 E 10 Cruza tutto Grazie per la visione! Grazie per la visione!